Fratelli, se uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati a sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ammasciatori, per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio Veniamo a essere Dio